Stefano Allasia, il governo mette a disposizione fondi per il turismo e la cultura. La Lega Nord come giudica questo decreto? In modo positivo sulla parte dei musei per il rilancio culturale e turistico del paese, anche se dobbiamo far notare che è un provvedimento che fa denotare il fallimento dello Stato, perché richiedere i finanziamenti ai privati, cittadini e aziende per sistemare musei, come possono essere anche in ultimo, come è successo a Roma, al Colosseo, è il fallimento totale. C'è la necessità di far capire che questo provvedimento ha luci ombre, perché sono provvedimenti spot e marchette che sono esclusivamente a favore di una parte del territorio del sud, la Regia di Caserta, il sito archeologico di Pompei e le fondazioni sinfoniche del sud. Quali i siti di interesse al nord e che avrebbero bisogno di un aiuto del governo? Tutti i siti hanno bisogno di aiuto, aiuto economico, abbiamo notato anche le dichiarazioni in ultimo di Franceschini e del ministro, dove ha volontà di aprire un museo del cinema a Roma. Il museo del cinema nazionale c'è già, quello di Torino, che è stato finanziato e creato dai torinesi, dai piemontesi, con fondi pubblici ma locali e non fondi dello Stato come vuol fare Franceschini. Perciò noi siamo assolutamente contrari a questa posizione del governo assolutamente assistenzialista.